Alla ricerca urgente di un posto letto di assistenza specialistica in un centro di riabilitazione neurologica per tentare di curare il padre gravemente malato a causa delle complicazioni del covid. E' la vicenda che vede coinvolte le figlie del sindaco di Avetrana, Antonio Minò, che hanno rivolto un primo accorato appello attraverso le colonne del nuovo quotidiano di Puglia. Il primo cittadino da due mesi è ricoverato nella rianimazione dell'ospedale di Manduria. Inizialmente Minò sembrava aver contratto il virus in maniera lieve per poi aggravarsi drammaticamente. E' stato subito spostato in rianimazione e ha rischiato più volte la vita salvandosi grazie alla tempestività e alla bravura dei sanitari del Giannuzzi di Manduria, come sottolineano i familiari contattati dalla redazione di Antenna Sud. Adesso Minò è negativo ma è in coma semicosciente, respira grazie alle macchine ed ha bisogno di assistenza neurologica intensiva in un centro per risvegli. Tutti i centri contattati in Italia, ci ribadisce Stefania Minò da San Giovanni Rotondo, a Bari, a Crutone, a Imola, a Milano, non sono stati disponibili ad accogliere il paziente, adducendo come motivi l'attuale necessità del respiratore della dialisi. La famiglia Minò, anche attraverso Antenna Sud, si rivolge alle autorità sanitarie e politiche della regione e a chiunque possa fare qualcosa, non per la richiesta di un privilegio, ma per assicurare ad un uomo la possibilità di riprendersi e di tornare a una vita normale. Minò già da un mese sarebbe pronto a iniziare la riabilitazione, riconosce nuovamente i parenti e comincia a muovere gli arti, ma il tempo stringe.